Siamo alla fine dell'anno, siamo al 31 dicembre e questo 2012 sta per andare in archivio. Un altro anno che noi chiudiamo, archiviamo dal punto di vista anche editoriale con diverse notizie che abbiamo fornito giorno dopo giorno. L'informazione puntuale e corretta di Sicilia Edizioni che attraverso i 5 giornali online sicilianotizie.info, agrigentocronaca.net, canicattinotizie.net, licatanotizie.net e sciaccanotizie.net ha raggiunto tutto quello che è il territorio provinciale di Agrigento e della Sicilia. I nostri lettori sono sempre di più, sono sempre più fidelizzati e affezionati, ci seguono ogni giorno, man mano che le ore passano Noi continuamente informiamo attraverso le news che lanciamo, informiamo su quello che avviene in tutta la provincia di Agrigento. Ognuno ha il proprio territorio, il proprio bacino di riferimento, può anche allargare la propria veduta attraverso gli altri giornali, visitando gli altri giornali delle altre città. Perché abbiamo voluto mettere in diversi settori, in diversi contenitori, le notizie proprio per raggiungere in maniera immediata e tempestiva quelli che sono i nostri lettori. Andiamo a fare un bilancio di quest'anno che sta per finire, tra poche ore brinderemo al 2013, un anno che è stato, lo avevamo anche predetto per certi versi, un anno difficile con la crisi economica imperante, con diversi settori che hanno registrato andamenti negativi sicuramente, ma un anno pieno di speranza. Attualmente nella vita di ognuno di noi ci sono alti e bassi, ci sono momenti di gioia alternati a momenti di tristezza, a momenti positivi e a momenti negativi, ma tutto sommato quello che viene tracciato come bilancio di questo 2012 non è sicuramente un bilancio positivo. Tutti gli enti e le istituzioni hanno risentito della crisi, le risorse sono sempre più scarse, i servizi non sono efficienti, le nostre città purtroppo si svuotano, continuano a svuotarsi, è ripresa l'immigrazione e l'emigrazione verso il nord Italia e verso l'estero. Quello che noi auguriamo, auguriamo ai nostri lettori e ai nostri giornali è naturalmente un anno migliore che possa essere all'insegna dell'occupazione e del lavoro. Senza l'occupazione, senza il lavoro, la persona umana non si nobilita. Il lavoro nobilita l'uomo è il proverbio, dice il proverbio e quindi è quello che vi possiamo augurare, quello che possiamo augurare a tutti è che ognuno di voi, ognuno di noi possa avere un'occupazione stabile, naturalmente per chi è precario, una nuova occupazione per chi non ce l'ha, per chi è disoccupato, una occupazione migliore per chi ha un'aspirazione magari diversa e chi vuole cambiare lavoro e ha le caratteristiche e le capacità per farlo. Possiamo augurare a tutti che questo 2013 possa portare, naturalmente, quello che è la propria aspirazione, quello che è l'aspirazione di ognuno di noi, ma soprattutto tanto lavoro prima che guadagno, perché ecco, il guadagno ci deve essere, deve essere correlato all'impegno che ognuno di noi profonde nell'attività imprenditoriale, un'elettività lavorativa che svolge, ma prima di ogni cosa ci deve essere quell'ambiente sereno, quell'ambiente lavorativo che possa gratificare, naturalmente, chi svolge un determinato lavoro, un determinato mestiere. Noi che facciamo parte nel mondo dell'informazione possiamo augurarci di poter continuare ad avere i nostri inserzionisti, i nostri sponsor che con il loro finanziamento della pubblicità, che può sembrare anche banale, contribuiscono a mantenere quello che è un'informazione pulita, netta, nitida e al di là di ogni logica di schieramento, perché a noi queste cose non interessano, faziosa come spesso altri fanno e come noi non vogliamo fare. I nostri giornali accolgono tutte le informazioni, tutti i comunicati stampa dei vari partiti, dei vari onorevoli di destra e sinistra e di centro, non ci interessa. Noi abbiamo sempre dato spazio a tutti, abbiamo dato in maniera particolare spazio alla cronaca, ma la politica è il nostro pallino, ci piace fare politica e quindi ci piace anche raccontarvi la politica in questo modo. Fare politica, quando io dico fare politica, non significa che noi siamo schierati dall'una o dall'altra parte, noi siamo soltanto per il più nobile del significato della politica, occuparsi della cosa pubblica. E quindi cosa fare? Non mi resta altro da fare che farvi gli auguri per questo 2013, foriero di buone speranze, foriero di un futuro migliore e un futuro sicuramente lavorativo e occupazionale. Abbiamo scelto il formato diverso del video quest'anno per farvi gli auguri per questo editoriale di fine anno, non quello scritto che può sembrare asciutto e può essere anche a volte difficile da leggere fino alla fine. Abbiamo voluto adeguarci anche ai tempi e con questo video messaggio gli auguri da parte mia, del direttore dei 5 giornali online che conoscete benissimo, gli auguri di Paolo Picone e naturalmente gli auguri anche del nostro editore Pietro Asaro con questo nuovo formato, con il formato video. Buon 2013 a tutti!